Ciao ragazzi, ci siamo, nuovo webinar, la guida, la guida che sta diventando anche un libro, un libro che piano piano, se me le metti un po' di acqua per favore, grazie, la guida che poi diventerà un prossimo libro ed è settimana a venire che noi andremo proprio a affrontare, grazie, andremo a affrontare diversi temi legati ovviamente al peso, perché molte persone mi chiedono, voglio perdere peso, voglio essere magra, spesso e volentieri quando guardiamo soltanto peso è un po' limitativo perché stiamo guardando il sintomo, non stiamo guardando la causa, quando troviamo qualcosa nel corpo come le rughe, l'ansia, un atteggiamento un po' ossessivo, quando abbiamo un atteggiamento ossessivo con qualsiasi cosa, anche l'allenamento ossessivo con il cibo, è un cervello che è iperattivo, magari ce l'ha un problema semplicemente dei ormoni o delle neurotrasmettatori che potrebbe calmare o placare diverse zone del cervello, quando vediamo il fisico che è fuori forma non è detto, non è grasso il problema, molto probabilmente il problema è legato a diverse entità di cicli ormonali, microbioma, età, ossidazione delle nostre cellule o altrimenti anche problemi proprio di intossicazione, possiamo essere intossicati di metalli pesanti o di muffe o di spore o di funghi o addirittura di vermi, ok? Se abbiamo amici domestici non solo, si può prendere i vermi anche dalle frutte le verdure o addirittura dai pesci. Così è importante riguardare il corpo e sapendo che quando noi riusciamo a rimettere in auge la salute del corpo, il peso scenderà. Torniamo anche su un'altra cosa, voglio dire che la crononutrizione, le digiuno e l'intermettenza ci aiuterà con set point, set point sarà un altro tema del nostro, diciamo, guida, perché set point che cos'è? Il set point è questo punto peso che comincia a 18 anni, è basato ovviamente sul nostro età, sesso, altezza, massa magra, massa grassa, livello di attività, anche il quadro genetico, ok? E questo set point ci farà il caso che è difficile spostare. Magari un set point ci sono quei due chili che sopra Natale o Pasqua quando mangiamo tanto, possiamo prendere due chili, finito Natale, cominciamo, torniamo a mangiare in modo normale e si torna di nuovo a quel set point, possiamo scendere di un chilo o due chili sotto quel set point perché siamo innamorati o tristi o in ansia per il minuto che torniamo a mangiare in modo normale, ci passa l'ansiogeno o lo stressore, torniamo a quel peso. Noterete che questo set point è sposto con l'età, ok? Però la cosa bella di crononutrizione e digiuno ad intermettenza, notiamo che la set point si ribassa verso due a 18 anni. Un'altra cosa che incide sul nostro set point è la forza di gravità, però lo spiegherò quando facciamo il nostro webinar dedicato al set point. Allora, crononutrizione è intrinsecamente attaccato a digiuno in intermettenza. Allora, digiuno ad intermettenza abbiamo la finestra di digiuno e le finestre di nutrimento e le finestre di nutrimento è importante quanto il digiuno. Il problema del digiuno ad intermettenza quasi tutti pensano che vuol dire smettere di mangiare. Ed è vero che smettiamo di mangiare per un lasso di tempo, per un lasso di tempo circoscritto. Dopodiché, che cos'è la benzina del nostro corpo? Il nutrimento stesso, il cibo, la qualità del cibo, la stagionalità del cibo, le provenienze del cibo, la tipologia del cibo. Io penso che siano omnivori e penso che per noi è importante mangiare di tutto. L'altra cosa è che quando facciamo digiuno ad intermettenza non è, vediamo quanto riusciamo ad allungare queste cose perché io sono una paledina della giustizia se riesco a fare 23 ore di digiuno, un'ora di mangiare, non fa bene assolutamente nel corpo e con Crono Nutrizione scopriremo perché. Perché il nostro corpo ha questa macchina meravigliosa e qua mi voglio anche soffermare su un'altra osservazione. Io guardo intorno a me le persone che si maltrattano veramente tanto, veramente tanto, pensano che possono bere alcol, fumare sigarette, non dormire, essere in ansia, mangiare fritti, grassi e saturi e pensano che il corpo riuscirà a rimbalzare sempre e stare in auge. No, il vostro corpo è una macchina in cui tu devi guidare tutta la vita e io sono convinta che se il corpo è tenuto il più possibile bene, ok, perché dormiamo bene, mangiamo bene, mangiamo con saggezza e con correttezza e questo viaggio sarà più divertente perché tieni meglio la strada, avrai più energia, avrai più voglio di fare, avrai più forza e avrai più salute. Ok, così. La crononutrizione è, abbiamo parlato del digiuno, adesso parliamo di la finestra del nutrimento e quando posizionarlo durante l'arco della nostra giornata perché è quello che significa crononutrizione, vuol dire l'orario di nutrirci, l'orario di andare a aiutarci a avere un risultato. Noi, nella mia altra webinar su digiuno all'intermettenza, abbiamo visto che il digiuno all'intermettenza è le ritmi circadiani e sembra relativamente una nuova scienza, ma la verità è che la crononutrizione, grazie al dottor Alain Delabosse, un francese, ha cominciato nel 1986. I primissimi studi ovviamente sui ritmi circadiani sono molto antichi anche quelli, però secondo la definizione dell'ottore si tratta di una dieta, non di una dieta, assolutamente come ti ho detto, digiuno all'intermettenza non è una dieta. Ok? Smettiamo di pensare a dieta perché la dieta è molto alimentativa e secondo me il problema della dieta, di nuovo pensiamo a stenti, a digiuni, a togliere e non mangiare cose che non è vero, devi mangiare. E la cosa più bella che mi piace sia di crononutrizione che di digiuno all'intermettenza che praticamente sono la stessa cosa, cugini strettissimi e che non devi più pesare niente, non è una questione di pesare, è una questione di preferire orario e tipologia di cibo e andremo a scoprirlo insieme. Ok. La crononutrizione non è una dieta, bensì è un modo di nutrirsi che rispetta il nostro orologio biologico, alla sua volta scandito da variazioni metaboliche che intervengono durante la giornata, il corpo non assimilerebbe i diversi alimenti in modo uguale. Ok? Lo zucchero non ha stesso peso caloricamente o più che altro fisiologicamente per tutte le giornate. Se io mangio un biscotto la mattina e lo mangio la sera avrà un effetto diverso sui miei ormoni e questo incide sull'autofagia, deposito di grassi, metabolismo, salute del cervello. La crononutrizione è lo studio dell'impatto della nutrizione sui processi metabolici e di come questi possono essere influenzati e alterare i modelli circadiani attraverso l'assunzione di nutrienti, la regolarità, frequenza e il tempo. Io oggi non vado a parlare dei ritmi circadiani perché parleremo dei ritmi circadiani a largo specchio, ampio spettro, poi ti spiegherò da dove è nato. Però, tornerò su questo. Però, che cos'è un ritmo circadiano? Ok. I ritmi circadiani sono generati da un orologio interno, un pacemaker che si trova nell'ipotalamo assieme al nucleo sopra il chismatico, però non è l'unico orologio, che non è l'unico orologio nel nostro corpo. Abbiamo anche il Zeitgeiber che sono, abbiamo questo sogno veglia legato al colore Kelvin della luce, ok, della luce perché abbiamo dei ricettori sul nostro retino chiamato melanospin che riescono a percepire la luce blu. La luce blu incide sulla produzione di cortisolo o di melatonina. Però i nostri ritmi circadiani possono essere influenzati anche da quando andiamo a letto, quando ci alleniamo e quando mangiamo. E si è visto che abbiamo, grazie a questi ritmi circadiani addirittura, l'ho già menzionato nell'ottima webinar, che addirittura assumere farmaci può avere un effetto differente legato ai ritmi circadiani. Così andremo avanti, ho già parlato con Leonardo Scanzano, mio farmacista che lavora con me, ha detto, Leo possiamo cominciare a fare questa ricerca, a capire esattamente quando sarebbe più opportuno con i nostri ritmi circadiani assumere tutti i nostri integratori. Sarà un viaggio, sarà un viaggio, non ho ancora la risposta, ma vedo esattamente dove voglio arrivare perché qui stiamo con la guida affrontando qualcosa meraviglioso che ci aiuta veramente di avere di più del nostro corpo. Però vi spiego che cos'è questo orologio. Il SCN è il nucleo suprachismatico legato ed è posizionato direttamente indietro al nervo ottico e sulla nostra retina abbiamo le melanospin, i ricettori retinali che percepiscono la luce blu o la luce. Non percepisce tutti i colori della luce, però la luce blu è quella una tendente fredda. C'è luce blu, c'è la luce ambrata e c'è la luce bianca. La luce blu di solito si vede la mattina, la luce fredda la mattina, la luce bianca a mezzogiorno e la luce sembrata in pomeriggio. Il nostro corpo prende queste informazioni attraverso il nervo ottico, parla con il nucleo suprachismatico e dice ok, è momento di, ritmi circadiani, è momento di produrre questo ormone o quest'altro ormone, è momento di. Più o meno ogni quattro ore c'è un momento di. Ogni quattro ore comincia un altro ormone e ci sono ormoni che sono, diciamo, a posti, diatralmente a posti, ok? L'altra cosa che abbiamo, abbiamo peripheral oscillators, che sono zeitgeiber. Zeitgeiber vuol dire setting il tempo, perché riesce a fare un settaggio del tempo, zeitgeiber è una parola tedesco, e noi abbiamo il ciclo luce buio, il tempo dei pasti, il ritmo sonno veglia e tempi di attività e allenamento. Ecco perché se siete abituali o abitualmente allenati troppo tardi o siete insegnanti, magari questo è successo anche quando io tanti tanti anni fa facevo aerobica, la mia ultima lezione finiva alle 21, però era aerobica, del classico aerobica, poi io sono abbastanza energica, non dormivo perché avevo l'adrenalina tipo a go-go, allora io mi stavo sfalzando i miei ritmi circadiani. Poi questa informazione, ok, comincia a parlare, il nucleo sovrochinesmatico, questo orologio centrale, parla ovviamente con la gandula pineale che agisce con la melatonina, che ci fa dormire, ok, o altrimenti con il sistema nervoso centrale per mandare informazioni ai nostri ormoni ma anche ai nostri enzimi che ci aiutano a vivere meglio, mangiare meglio, assimilare meglio, bruciare i grassi meglio, insomma a fare tutto quello che ci serve al meglio. Allora, questa è un'idea dei ritmi ormonali che regolano le attività dei nostri organi vitali, ok, ripeto, è un bello orologio. E perché abbiamo questo orologio? Il nostro corpo è quattro volte più catabolica che anabolica, vuol dire che il nostro corpo ha una tendenza di una grande voglia di risparmiare anziché spendere energia. Perché? Attavicamente eravamo cacciatori e raccogliatori, senza fissa demora, senza riscaldamenti, senza supermercati 24 ore su 24 e senza cibo tutto l'anno perché spesso e volentieri in inverno il cibo era scarso, era difficile trovare cibo sui alberi perché l'albero non sfoglie, fa parte di tutto. Noi, per la sopravvivenza, il nostro corpo è estremamente attento del dispendio energetico. Ecco perché qualsiasi sportivo che, come si chiama, qualsiasi sportivo sa che quando vai in palestra, cioè devi andare in palestra tre volte, poi ti puoi ricoverare un giorno, però se tu non vai in palestra per dieci, quattordici giorni già cominci a notare una differenza proprio sulla massa magra perché il corpo dice ah non ti stai allenando, non ti serve in massa magra, perfetto, tolgo. Così il nostro corpo per essere ottimale va a una sorta di stand by, c'è presente il vostro cellulare che il minuto che puoi andare in stand by si annerisce lo schermo, è acceso il cellulare ma non è a massimo potenza. L'unico momento che il nostro corpo sta a massimo potenza è il momento di estremo pericolo, quando abbiamo uno stressore imminente e di fronte a noi. A quel punto il nostro corpo lascia tutto e ci dà il massimo di energia, di concentrazione, di capacità visiva, di coordinazione, di energia esplosiva per superare il pericolo. Il problema oggi come oggi è che il nostro corpo percepisce l'ansia come pericolo, le notizie brutte come pericolo, covid come pericolo e quant'altro. Così il nostro corpo purtroppo è sfasato e noi dobbiamo fare di tutto per farlo rientrare in auge. Ma torniamo a guardiamo, non è importante di capire al momento di quando è uno in massima attività o minima attività, ma per farti capire che se tu noti bene, abbiamo polmoni, l'organo, polmone, stomaco, cuore, vescica, maestro del cuore e cistifeglia, polmoni dalle 3 a 5 della mattina, cioè respiri bene di notte, pensa, le minimi attività dalle 15 alle 17, sono 12 ore. Stomaco, 7 e 9, 19, 21, 12 ore. Cuore, 11, 13, 23, 1, 12 ore. Così abbiamo tutto il corpo al momento che va a riposo e al momento che il corpo dice ok, adesso tocca a te, tocca a te, perfetto, e farci caso che polmoni stanno lavorando, dopodiché il stomaco devi digerire, poi il cuore deve mergersi in auge, vescica. Però siccome noi stiamo parlando di crononutrizione, vi chiedo di, per esempio la vescica, la vescica o anche i reni, qui non ci sono i reni, però di notte noi abbiamo dei ormoni che sono rilasciati per ridurre le diuresi, cioè noi dovremmo, ecco perché è importante non bere troppo acqua prima di andare a letto, perché non dovresti svegliarti, interrompere il ciclo del sonno andando in bagno perché abbia bevuto troppo acqua la sera, così ci sono un sacco di cose che possiamo fare per migliorare le qualità del sonno che poi alla fine migliorerà anche tutti i ritmi circadiani ormonali per aiutarci a tornare in un bellissimo equilibrio, in questo bellissimo equilibrio, ci aiuterà a dimagrire, rallentare il processo di invecchiamento, avere più energia essere più belli, ok? Così, però noi stiamo parlando di crononutrizione, così, lo stomaco, ok? 19, 21, minima attività, la massima attività alle mattine e la minima attività la sera, ed è molto importante perché esattamente la crononutrizione dice di quando non solo posizionare la vostra finestra di nutrimento, che è molto importante, ma che cosa mangiare alle ore della vostra finestra di nutrimento e andremo a scoprire insieme. Settimana scorsa vi ho già fatto vedere questo grafico che semplicemente fa vedere la differenza o perché ci serve di proteggere i ritmi circadiani, perché ci serve di andare verso questo, diciamo, riequilibrio dei nostri ritmi circadiani, perché si appiattiscono con l'età e chiunque ha più di 43, 45 anni saprà che il sonno cambia, cambia. Se sei in menopausa ancora peggio mi sento e cambia veramente tantissimo. Cambia perché nella paziente anziano, ok, il nostro flusso della melatonina, che dovrebbe essere un rilascio che ovviamente ci comincia a far diventare un po' più stanchi intorno alle nove e le dieci di sera per tenerci addormentato tutta la notte, per una paziente anziano, è molto appiattito. Perché è appiattito? Perché se io, abbiamo parlato sempre di settimana scorso, dei ritmi ormonali, è l'oscillazione del ritmo ormonale, si chiama ampiezza dell'onda. Quando siamo giovani, l'ampiezza dell'onda nei nostri ritmi ormonali, che dovrebbero fuoriuscire ogni quattro ore, passando da organo vitale ad organo vitale, per permettere questo flusso di energia a passare a tutto il corpo, a aiutare ogni organo di fare la sua parte all'orario giusto, comincia a piattire durante la nostra età, ok? Cambiamento di invecchiamento, stile di vita, perché ci sono persone che la loro età biologico e sai, cioè l'età biologico che cos'è? L'età cronologico è la mia età, quella che sta scritto sul mio passaporto, sul mio passaporto, sulle mie date di nascita o sul mio documento, quello è cronologico. L'età biologico è quello, quanti anni ha le mie cellule, quanti anni ha la mia struttura ed è legato a questi ritmi ormonali. Cioè quando vai a un riunione della vostra scuola e vedi una persona che si è invecchiato male, che sembra, come si dice a Roma, mio nonno, ok? Mio nonno o mia nonna, è perché molto volentieri è un creativo stile di vita. Ansia, stress, dormire male, lavorare di turno di notte, fumare, e ci sono tante cose che possono peggiorare, diciamo, la salute del corpo, appietisce i ritmi ormonali. Siccome il nostro corpo è, ha, molto protettivo della protezione della tua energia, ha bisogno di essere calmo per fare tutto quello che facciamo, siamo troppo stressati. Questo è il numero uno è per lo stress o stress block, per lo stress o ganoderma, per lo stress melissa composta e ganoderma, l'ho già detto, sì, e ansio zen. Questi sono tutti molto importanti perché lo stress ci proprio, ci sbaglia tutti i ritmi ormonali. Ma l'altro problema è che quando si appietisce le nostre curve ormonali, a questo punto non diventa chiaro al nostro corpo quando devi bruciare i grassi o zuccheri, o quando devi produrre questo ormone o questa enzima piuttosto che dall'altro. E quello è il problema, perché quando, anziché essere bianco e nero, allora, ora, è ora dello stomaco, va bene, andiamo a potenziare gli stomaco, dice, wow, dove dobbiamo andare? E a quel punto nulla del corpo riesce a funzionare in modo ottimale perché non è chiaro per il corpo stesso, perché gli ormoni sono messaggiati zuccheri. Cioè, loro ormoni girano per dire adesso tocca a te, adesso tocca a te, adesso tocca a te. Ma ci sono ormoni che non riescono mai ad uscire, né allora giusto, né la quantità giusta per mantenere l'oscillazione dei ritmi ormonali ottimali, cominciamo a vedere le persone i problemi di diabete tipo 2, cominciamo a vedere resistenza all'insulina, cominciamo a vedere i casi di obesità, cominciamo a vedere i casi di cancro. Mi dispiace di dirlo, ma infiammazione nel corpo, infiammazione nel corpo è un percussore per malattie brutte e non vado a spiegarle perché non mi piace parlare di questo, che non sono un medico, però sappiamo che se riusciamo a migliorare la salute dei nostri ritmi circadiani, miglioriamo la salute di tutto il corpo, tutto tondo, anti Alzheimer's, anti problemi di coronarie, anti ictus, anti diabetica, c'è veramente tanto. Ma ritorniamo su questo meraviglioso studio fatto su topolini perché quello che man mano che vado avanti quando vedi questo e dici ok, un topolino grasso messo su digiuno all'intermettenza si è dimagrito. È già là, va già là, mazza, dimagriamo, grande, siamo tutti contenti. Ma man mano che andavo avanti con tutte le ricerche che ho fatto in questi webinar, ho notato questa high amplitude, low amplitude, vuol dire l'onda dei ritmi circadiani ormonali di questi animali che mangiavano ad libitum, cioè quando cavolo gli pareva 24 ore su 24, appiettiva i ritmi circadiani e coloro che mangiavano in una finestra come digiuno all'intermettenza, in una finestra specifica, messo crononutrizione durante il loro momento di attività perché i roditori sono attivi di notte, sono notturni, noi siamo diurni, loro sono notturni, mettendo la loro crononutrizione durante la loro fase più attiva faceva sì che non solo questi topolini hanno ridotto la diaposità, l'intolleranza al glucosio, la resistenza alla leptina che ci aiuta sia con il metabolismo che con la fame nervosa perché, dico un'altra cosa, le persone che sono obesi hanno fame. A me dispiace tantissimo quando vedi una persona guardare una persona che ha un problema di peso, mangi di meno, no? Allenati, no? Non è così facile, eh? Non girare a giudicare la persona accanto a te, dovresti semplicemente guardare il Signore se c'è una linea facile da mantenere, dici grazie Signore. Perché quando gli ormoni cominciano a sbalonzolare e se una persona ha resistenza alla leptina, il cervello letteralmente è sordo allo stimolo della sazietà, ha veramente fame. Hanno sempre, anche se mangiano, non sono mai sazi e poi c'è il senso di colpa e poi c'è questo cane che si morde le coda e poi mangiano di più perché perde il senso di colpa e va avanti, eh? Così. Non giudichiamo nessuno là fuori. Allora, resistenza alla leptina perché la leptina è prodotta da panicolo di grasso. Leptina in un corpo con le ritmi cercariani giusto, mangio, mio corpo deposita il giusto quantità di grasso, ho bisogno di una giusta quantità di grasso, non posso essere soltanto muscolo, il grasso serve per la produzione ormonale, per le temperature, mi aiuta, come si chiama, per procreare, mi aiuta a produrre anche gli ormoni ovviamente sessuali che sono importanti per diventare mamma o padre, mi aiuta a proteggere da urti, il grasso serve, ok? L'eccesso di grassa non vogliamo. Così, in un soggetto che è normopeso, quando ho informazione di aver mangiato il grasso che è sufficiente sul mio corpo, la leptina viene prodotta dal grasso stesso che dice al cervello, stop, ok, siamo a posto. Quando cominciamo a superare il grasso, il deposito di grasso, facci caso, avrai meno fame, ti viene anche schifato dal cibo. Sai quando succede questo? Dopo Natale, facci caso. Terzo giorno di gennaio, sette gennaio, facci caso che hai l'avversione al cibo, cioè hai mangiato sotto Natale, hai goduto il panettone, le struffoli, pandoro, un zuppato nel cioccolato, torone, tutto quanto, a un certo punto cominci a vedere set point, facci caso, due chili, due chili, arrivano poi tutti insieme, ci trovi con due chili sopra, facci caso, sotto Natale, mangi, 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 guarda, non sto ingrassando, non sto ingrassando, poi bam, arrivano tutti insieme due o tre chili, ma facci caso, dopo ti viene l'avversione del cibo, cominci a regalare quelle che ti è rimasta in casa, cominci a portarle in ufficio perché non la vuoi tenere a casa, e cominci a dire, stasera voglio un brodino, stasera voglio soltanto un nuovo piatto, non ti vieni a mangiare tantissimo, perché quella è la leptina in auge, quella è la leptina, perché quando superiamo le riserve di grasso, uno corretto messaggio ormonale della leptina dice al cervello, aumenta il metabolismo, riduce la fame, aumenta il metabolismo, riduce la fame, e set point, e torni al tuo set point, farci caso, ok così, quando parliamo di crononutrizione, tutti questi benefici sono venuti, non soltanto perché hanno digiunato, ma hanno messo il digiuno nel momento opportuno della giornata stessa, questa è crononutrizione, quando mangio, e poi scopriamo che cosa mangiare, allora aiuta a ridurre la patologia del fegato, patologia del fegato, fegato grasso, l'esterosi epatica, che è legata purtroppo a troppo grassi, o una mala, diciamo, gestione del glucosio nel sangue, la produzione di glucosio, diciamo, dell'energia del corpo, del deposito di grassi, infiammazione, ok, si riduce l'infiammazione, che ripeto, l'infiammazione, infiammare le coronarie, infiammare, diciamo, anche il cervello infiammato è quello che porta demenzia, o porta Alzheimer's, e poi la coordinazione motoria, perché la coordinazione motoria è sempre una questione del sistema nervoso centrale, così è molto importante di guardare come questo crononutrizione non solo ci fa dimagrire, ci fa, ok, ottimizzare i nostri ritmi circadiani. Disturbatori dei ritmi circadiani sono lavori a turni, le persone che fanno i turni, avete tutto il mio, cioè mi dispiace, onestamente, addirittura, questo la devo dire, in Stati Uniti chi fa il turno di notte è considerato cancerogeno, l'hanno chiamato cancerogeno, gli Stati Uniti lavorare di notte, perché è costantemente bombardando il vostro ritmo, ciclo, sonno, veglia, e a lungo andare logora il corpo. Jet lag, jet lag è quello che ci succede quando facciamo un viaggio oltreoceano, un viaggio che supera 3-4 ore di fuso orari, quando rientriamo, falsando il nostro sovratisnatico, la luce che ci arriva alla retina si sfalza, ok? Noi eravamo abituati che magari il sole sorge alle 7 e va giù alle 20, ok? Perché adesso è primavera. Se l'esposto di 3 ore, trovo che il sole mi sorge a questo punto alle 4 di mattina e va giù prima, è questo purtroppo jet lag, è quello che ti fa sentire veramente stordito per più giorni dopo che tu rientri da un viaggio lungo. L'altra cosa, i cicli di sonno veglia, irregolari, coloro che una volta al weekend mi sparo, vado a letto da due o tre di notte, poi durante la settimana, no, c'è un modo per aiutarci con un ritmo circariani, è di tentare di dormire sempre la stessa ora, tutta la notte, mangiare tutte le ore. Abbiamo visto la settimana scorsa, grazie al dottor Saccinanda Panda, che ha fatto la Foodagram, quanto è devastante sulla curve, amplitudine dello ritmo circariani, mangiare sempre, ok, adesso capiremo insieme perché, allenarsi troppo tardi è un disturbatore dei ritmi circariani e apparecchi elettronici troppo tardi, la luce blu, computer, cellulare, televisore, ok, sono tutte cose che sono deleterie per il nostro corpo, addirittura quando ci svegliamo la notte, per andare a fare i plin-plin, non so voi, ma io spesso me la sveglio, provate di non accendere la luce, piuttosto mettiti, sai quando ti metti la torcia sotto o giri il cellulare e provi di usare la luce del cellulare per arrivare in bagno, perché anche la luce accesa di notte, perché stai andando in bagno, è un disturbatore dei ritmi circariani. Regolatori dei ritmi circariani, quelli che ci aiutano a migliorare queste onde circariane è dormire, mangiare e allenare. Possiamo posizionare tutti e tre al meglio e oggi stiamo proprio concentrando in questa guida, in questo webinar sul mangiare. Andiamo avanti perché io spero che vi state divertendo. Allora, il cronotipo. Il cronotipo è la tua tendenza, questo è biologico, genetico e non puoi cambiare il tuo cronotipo. O ti sei una persona che è un mattiniera o sei un buffo, non puoi essere tutti e due e non lo puoi spostare. O sei uno o sei l'altro e come si noti e devi vedere quando carburi, ok? Se te sei uno come me, io sono mattiniera. Tu mi puoi mandare, mi puoi far svegliare alle 4 di mattina, alle 5 di mattina, alle 6 di mattina, bim bum bam, io riesco ad andare a fare qualsiasi cose. Chiedermi di stare sveglio dopo dieci per me è una sofferenza immane. Ormai sono una barzoletta per tutti i miei amici, perché se mi chiedi di stare sveglio fino alle 23, alle 24, per me è una sofferenza. È la sofferenza. Io vedo soltanto le pecorelle che stanno saltando la staccionata per andare a letto, mi gira la testa. Notambola non sono mai stata. Notamboli invece, purtroppo, mi dispiace per notamboli, non riescono a carburare la mattina, sono in coerente, non in coerente, però non vuoi, cioè sono un po' quello che si dice in inglese, grumpy, tipo, non riescono a connettere, ma non riescono neanche ad andare a letto fino all'una, due di notte, perché sono notamboli. È molto interessante questo, perché, ascoltate, devi abbracciare il tuo cronotipo. A me mi dispiace il tuo biotipo, cronotipo, biotipo, sono sinonimi, perché il mondo è più propensa di regalare l'orario giusto a mattonieri, ok, perché andiamo in ufficio alle otto e mezza e nove, la scuola è cominciata alle otto, c'è un'altra cosa, per esempio, Dr. Walker, Matthew Walker, che ha scritto Perché dormiamo, un bellissimo libro, Perché dormiamo, dice che tutti i licei dovrebbero cominciare alle nove e mezza o dieci, perché fisiologicamente un adolescente deve dormire la mattina. Per questione del REM sleep e per altre cose che non vado a spiegare in questo webinar, però sono i poveri, cioè diciamo, i adolescenti sono un po' più goofy ed è un peccato perché comunque loro non carbonano, non riescono a concentrare e anche lì non solo è una questione fisiologica, ma anche per lo studio non è il massimo. Però una volta che tu hai capito il tuo biotipo, va proprio applicato alla vostra giornata, perché i vostri ritmi circadiani sono spostati. Da dove nascono i biotipi, aspetta, torno indietro perché è una sorta interessante, e nasce il biotipo sempre alle nostre avi. Atavicamente eravamo un tribù, eravamo cacciatori e raccogliatori e la tribù ha più o meno 40%, no, 30% delle persone sono mattinieri, no, un po' di più, 40% delle persone sono mattinieri, l'altro 30% o 35% delle persone sono goofy e l'altro si trova nel bel mezzo. Perché questo è interessante? È interessante perché da tribù avevi quelli che si svegliavano con all'alba, quattro e mezza, cinque e mezza, e controllavano il tribù e proteggevano il tribù da minacce. Avevi i goofy che potevano stare svegli fino alle due o tre di notte, ok, che proteggevano di notte la tribù, così il tribù era scoperto, se dobbiamo dire proprio la verità, tranne una sentinella per un paio di ore ogni giorno. Ecco perché noi abbiamo geneticamente scritto sul nostro DNA queste due tipologie macro-arie del nostro biotipo e il biotipo effettivamente ha il suo ritmo circadiano, così io non posso dire mangiate tutti quanti alle 11, perché alle 11 va bene, perché non è detto, ok, l'unico modo per veramente vedere il tuo biotipo sarebbe fare proprio degli esami che misurano il vostro ritmo circadiano e dire più o meno quando le tue ormoni sono più in auge, a meno che quando stanno lavorando. Però ci sono delle regole di base, affronteremo queste regole di base per aiutarvi al meglio a prendere la vostra finestra di nutrimento e posizionarlo nel vostro giorno. Allora, calcolare il tuo biotipo, e questo vuol dire, perfetto, io sono mattiniere, magari sei gufo, vediamo. Decide l'ora che vai a letto, di solito, per me è le 11 e adesso ormai lo faccio proprio, anche se sto guardando un film su Netflix, alle dieci e mezza lo spengo, dico tanto c'è domani, vado a letto, comincio a leggere il libro, mi prendo i miei integratori, i miei integratori sono, per esempio prendo Melissa Composta, Metaboost Notte e Ganoderma, perché prendo tutti questi? Perché sono in menopausa e voglio dormire. Necessità per me, è molto importante che io dormo, invecchiando dormiamo di meno, ovviamente se tu sei più giovane e non sei in menopausa non ti serve di prendere più prodotti, prendi uno alla volta, vedi come ti butta e ti potrebbe aiutare a migliorare il vostro sonno, anche per tenervi addormentati tutta la notte, ok? Allora, decidi a che ora vai di letto, del solito, usiamo me, alle 11, prendere il ritmo di andare a letto alla stessa ora, se è possibile, mio consiglio è, come un integratore e come un allenamento e come prendere il caffè la mattina, provate di rispettare quell'ora ogni sera, perché veramente è benefica per il corpo. Adesso, ecco dove cominciamo a calcolare il nostro orario, ok? Siamo pronte? Prova di non mangiare per almeno 2-4 ore prima di andare a letto, ok? Vuol dire, se io vado a letto alle 11, nulla deve passare per la mia bocca tranne acqua calda o una tisana, ok? No caffè, non beviamo caffè la sera, ragazzi, mi raccomando, no caffè, ma una tisana rilassante o di erbe, la posso fare mai zucchero, ok? Prima di andare a letto, 2 ore, così, nulla dalle 21, devi passare per la mia bocca, ancora meglio, scusate, da fino a 4 ore, se veramente vuoi essere proprio precisa, precisa, 4 ore. Infatti ci sono tante persone che dicono che mangiare dopo le 19 non fa bene al corpo, ma se sei notambolo sarebbe le 21, perché un notambolo non va a letto alle 11, va a letto all'una, se vado a letto all'una vuol dire che io devo smettere di mangiare alle 11 o ancora meglio alle 9, ok? Vedi come si sposta questa finestra crononutrizione, dipende dal tuo biotipo e tu devi, solo tu puoi decidere che biotipo sei, a che ora vai a letto e prendi le redini in mano, però è un'ottima, ottima, ottima regola e già da oggi se tu decidi di andare a letto, perché più o meno ho una cena, andrò a letto a X ora, sono a casa, posso andare a letto a quell'ora, comunque smetti di mangiare almeno due ore prima di andare a letto. L'altra cosa, front loading, mangiare circa 80% delle tue calorie entro le prime 5 ore della tua finestra. Andiamo al ritroso, ok, adesso noi abbiamo detto, nel nostro finestra di mangiare, facciamo caso che facciamo un 8-16, vuol dire la mia finestra di digiuno è 16 e mangio per 8 ore. Io vado a letto alle 11, ok? La mia finestra, rendiamola più semplice, io smetto di mangiare alle 20 di sera, ok? Le 8 di sera, non mangio dopo le 8 di sera, infatti io con la mia famiglia proviamo di mangiare dalle 6.30 alle 7.30 adesso. Dormi di un bene, ragazzi, non sai come dormi, quando riesci ad andare a letto digiunato di due ore, dormi una favola, dormi una favola. Allora, a questo punto calcolo le 8 ore indietro, vuol dire che posso cominciare a mangiare dal mezzogiorno fino alle 20. Questa è la mia finestra di nutrimento. Il mio digiuno sarà dalle 8 di sera a mezzogiorno dell'altro giorno, ma le regole più importanti, è vero che il digiuno può essere, smetto di mangiare alle 10 di sera e non mangio fino alle 11 del giorno seguente, perché quello sarebbe 13 ore di digiuno e 11 ore di nutrimento e può succedere ogni tanto che non sono lì a dovere e salto le mie digiuno intermettenze perché c'è una cena di famiglia o un compleanno, non lo sto dicendo sempre, ma stiamo parlando di 80% della vostra settimana dovrebbe essere calcolato nel 2-4 ore prima di andare a letto. A ritroso calcolo la mia finestra di 8 ore o 9 ore, 10 ore, perché ognuno ha, dipende a che punto stai con il tuo digiuno in intermettenza e dentro quella finestra provate di mangiare di più la mattina, evitate i zuccheri semplici la sera. Adesso torno indietro perché voglio andare a farvi vedere questa, ok. Il corpo, crononutrizione, rilascia ormoni ed enzimi circa ogni 4 ore su quelli famosi cicli, no? Meglio questo, meglio quell'altro, ok. Per dimagrire sarebbe ottimale programmare la simulazione del cibo in linea con le necessità del corpo. Allora, abbiamo calcolato biotipo, abbiamo calcolato la nostra finestra di nutrimento e l'abbiamo posizionato sulla nostra giornata. Dentro questa finestra come dobbiamo mangiare? Allora, la mattina il corpo ha bisogno di energia, grassi e proteine e anche, cioè molte persone hanno l'abitudine di mangiare zuccheri la mattina, ma abbiamo anche un bel po' di pressione alta la mattina e anche insulina alta la mattina. Non è ottimale di mangiare zuccheri la mattina, ok? Per due motivi. Metterebbe, abbiamo più probabilità di immaginizzarlo come grasso, perché quando c'è un eccesso di insulina in giro per il corpo, abbiamo più probabilità di immaginizzare come grasso. E l'altra cosa è che un picco, cioè quando io l'insulina mi abbassa la glicemia, avrò fame prima e magari io se mangio troppo zucchero, dopo tre ore anziché cinque ore avrò fame. Mangiando più spesso mi fa ingrassare. Allora, la mattina dovrebbe essere un bel fonte di grassi e proteine. Ecco perché in questo caso la prima collezione americana, cioè uova, ok? Un po' di mandorle, le uova, una proteine e grassi, pane integrale che comunque rilascia le carboidrati in modo più lineare, non ci avrà i picchi insulinici, è più opportuno. Il pranzo, il nostro corpo a quel punto ha gli enzimi, perché nel nostro corpo ha bisogno di energia, ma produce la mattina enzimi che metabolizzano grassi e proteine, così è più facile per noi proprio assimilarli e utilizzarli come energia, proteine e grassi. Pranzo dovrebbe essere il re della giornata. Il pranzo dovrebbe essere la parte della nostra giornata dove noi mettiamo i più carboidrati perché a pranzo il nostro corpo comincia a produrre enzimi che riescono a metabolizzare al meglio amidi e carboidrati. Così mangiamo meno grasso e proteine, meno grasso della prima colazione. Possiamo prediligere la famosa pasta, un condito di verdure, ok? In pomeriggio abbiamo un picco di insulina, però se vogliamo avere un cioccolato scuro, un cioccolato nero, vogliamo mangiare qualcosa che ci aiuta a comunque mantenere lontano la fame e le altre cose che ci aiuta anche livellare l'insulina se gli diamo un po' di zuccheri a quell'ora. Infatti, se volete darvi un dolce o un zuccherino, mangiatelo entro le quindici, entro le quindici, perché di solito noi siamo abituati a lungo giornata, ho finito la giornata, mi sono stanca, mi premio con un dolce dopo cena, ho un gelato e anche qui c'è tanto, tanto, tanto da dire perché i picchi insulinici e glicemici da diversi studi fanno vedere che non tutti i cibi agiscono su tutti i corpi in modo uguale, sto parlando a larga linea qua, non sto parlando specificatamente, solo un nutrizionista potrebbe darti la tua di dieta, però è opportuno di mangiare grassi e proteine la prima popolazione. Pranzo, carboidrati, non intesi come zucchero puro, ma carboidrato, ok, riso, pasta, integrale magari. Poi, a pomeriggio, se vogliamo darci il dolcino, la mangiamo, il biscotto o il gelato, mangialo a pomeriggio, la sera dobbiamo stare leggeri, stare lontano dai zuccheri che potrebbero fare iniziare la insulina e anche, cioè tutto leggero, la nostra cena dovrebbe essere leggera, come era leggero per i nostri nonni, i nostri nonni non mangiavano tanto al pranzo, il pranzo era enorme se ti ricordi bene, la sera spesso la vedevi come una tisana, magari due fette biscottate, un brodino, ok, così. front loading vuol dire mangiare circa 80% delle mie calorie la mattina, quando arrivo a cena, provo di rimanere leggera e provo di non mangiare prima di andare a letto, lasciandomi una finestra di digiuno di almeno due ore per andare a letto, perché di notte, se io sono leggera e non c'ho più zuccheri nel sangue, io comincerò a bruciare i grassi di notte, è quello che volevamo tutti quanti, perché per aiutarci a ritrovare la linea ci serve di mangiare un certo ora, mangiare un certo tipo di cibi a un certo ora e anche tutto, e diciamo, e rimanere nella nostra finestra, la finestra è molto importante dove la posizioni durante l'arco della giornata, molto di voi mi avete chiesto che cosa mi manda fuori della finestra di digiuno, proteine e zuccheri, pochi grassi non ti manda fuori, l'acqua, tisana, caffè, tè, non ti manda fuori, basta che non ci sono zucchero dentro, vi sconsiglio dolcificanti, perché comunque i dolcificanti fanno molto male alla microbioma, ok? E l'altra cosa che potrebbero comunque far rilasciare un po' di insulina, perché il palato, avendo una sensazione di zucchero, dice, ah, mi sta arrivando zucchero, e comincia a produrre insulina, poi non trova il zucchero nel sangue perché non c'erano calorie nel vostro dolcificante e ci avrai un calo glicemico che ti viene, una stanchezza che ti innesca la fame e così c'è più fame e diventa più difficile rimanere a digiuno, ok? Così, non proviamo di fregare il sistema. Allora, le regole di crononutrizione, non mangiare cinque pasti al giorno, molti dicono questo, allora molti nutrizionisti dicono, ah, tre megapasti più due spuntini, invece tanti, tanti, tanti dicono, è meglio mangiare prima colazione, pranzo e cena, che noi mettiamo dentro il nostro otto ore, ok? Così, mia prima colazione è al mezzogiorno, posso fare, io spesso e volentieri, mia prima colazione e mio pranzo vanno messe insieme, posso magari fare un spuntino a pranzo e alla cena rimaniamo leggere. Abbondare a pranzo, leggero, a cena, ok? Se veramente ti vuoi togliere la pizza, farlo a pranzo, non farlo a cena. E la cosa interessante, se tu sai a pranzo che puoi sgarare, o puoi abbondare, o puoi mangiare, non ti pesano mangiare la cena, puoi. Devi semplicemente essere creativa, ok? Poi la cena con gli amici, mangi più leggero, verdure, verdure grigliate, poi le zuppe, le zuppe o le passate di verdure, che comunque ti saziano, ma non ti stanno dando picchi glicemici. Questa è una cosa molto importante per aiutarci, non solo per i ritmi circadiani, ma dormire più profondamente e dimagrire. Regalati la dolce, un dolce dopo pranzo e non dopo cena. Lo so che è molto psicologico il dolce, e devo anche dire che questo non mangiare dopo cena mentalmente è faticoso, perché siamo tutti abituati a spizzicare di fronte al televisore, ma se veramente vuoi avere un consiglio, più consigli che non posso dare, è due ore prima di andare a letto non toccare niente, neanche tanta acqua, perché l'acqua può comunque mandarti a bagno durante la notte e quella ti sveglia e quella di nuovo sfalza i ritmi circadiani. Così, siamo qui ragazzi, la guida continua, tantissime cose da approfondire, perché crononutruzione potremmo veramente andare avanti a capire i ritmi circadiani, come sono, diciamo, influenzati da quelle che diverse molecole, proteine o grassi o zuccheri. Cosa faremo? Andremo avanti con i ritmi circadiani nella nostra prossima guida, perché i ritmi circadiani è la base di tutto. Crononutruzione, se vogliamo dire, anche cronoallenamento, perché cronoallenamento è l'importanza del sonno. Abbiamo un sacco di cose da scoprire insieme. Spero che vi state divertendo con questi webinar, approfondendo la sapienza per aiutare il tuo corpo a rimanere in auge, rallentando questo orologio biologico, perché quella cronologica non possiamo cambiare, ma noi possiamo fare tanto sull'orologio biologico, ricordando che il corpo è uno. Questo è un viaggio meraviglioso, vita meravigliosa, e non c'è nulla, ma nulla, ma nulla più importante, dopo la fede, della salute. La salute è fondamentale per vivere bene, vivere sano, non essere solo magri, ma vivere bene, proprio avere una vita piena, piena, piena. Se qualcosa ci deve portare via da questo mondo, facciamolo solo nei telomeri che si accorciano, ma ti spiego anche i telomeri in un altro webinar. Vi auguro un weekend fantastico, ci vediamo la prossima settimana, e ricordate sempre che insieme la vita è una figata. Grazie di esistere, e ci vediamo presto qui su.